Sulla nuova iniziativa iconografica della criminalità organizzata era intervenuta pochi giorni fa la commissione antimafia con un'interrogazione rivolta ai ministri dell'interno della giustizia e dello sviluppo economico che riprendendo una notizia divulgata dal mattino di Napoli segnalava la vendita di t-shirt inneggianti alla camorra. Il prefetto di Napoli Marco Valentini in prima linea nella nota attività di contrasto alla mitizzazione dei simboli della camorra in città e in tutta la provincia partenopea ha prontamente attivato il comitato ordine e sicurezza pubblica e dopo ricerche a tappeto non solo online ma anche su territorio la guardia di finanza del comando provinciale Napoli ha individuato e sequestrato 50 magliette sposte su una bancarella abusiva riportanti in alcuni casi i luoghi contraffatti delle squadre di calcio di serie A e in altri casi una decalcomania di una piovra nera che ghermisce l'Italia e la scritta camorra. Sono stati finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano di Napoli a sottoporre a sequestro le magliette. L'operazione si è svolta in via Roma all'altezza del carcere di Secondigliano l'ambulante appena visto la pattuglia che si avvicinava per il controllo si è dato alla fuga ma verrà comunque denunciato per i reati di contraffazione marchi e ricettazione per le magliette calcistiche. Le indagini delle fiamme gialle proseguono per la sua identificazione e saranno finalizzate anche a individuare le filiere di produzione e distribuzione anche online delle t-shirt indeggianti alla camorra. Si invitano pertanto i cittadini a denunciare alla guardia di finanza anche tramite il servizio 117 chi si renda responsabile della messa in vendita di articoli contraffatti soprattutto senneggianti a simboli mafiosi.